Ben ritrovati a tutti amici sportivi eccoci qua di nuovo con voi con un servizio che vuole essere un'anticipazione una presentazione soprattutto di quella che è una manifestazione che proprio domenica prossima andrà in scena ancora nella media valle seriana e infatti come del resto voi tutti sapete come del resto avete visto anche nelle prime immagini praticamente si disputerà questa sesta edizione della pedal di all sprint è una manifestazione se vogliamo che ha un fascino davvero particolare si corre soltanto per poco meno di un chilometro soltanto per poco meno di un chilometro a cronometro è una manifestazione che ha già davvero ha preso ha preso piede ne parliamo e adesso ve li presento innanzitutto vi dico anche dove siamo perché qualche uno di voi si starà chiedendo cos'è questa nuova sede per quanto riguarda le registrazioni siamo al negozio mailbox eccetera di Desenzano anzi di Albino per la verità comunque nella centralissima via Roma dove appunto ci hanno allestito improvvisato se vogliamo ma del tutto molto appariscente anche molto ben congegnato anche per quanto riguarda le luci ci hanno allestito questo improvvisato studio da dove appunto raccontiamo tutta questa storia innanzitutto questo negozio che è a disposizione ed è giusto citarlo visto la disponibilità è a disposizione e in pratica di tutta la popolazione per quanto riguarda le spedizioni per quanto riguarda tutto quello che questo network perché dobbiamo dire che la mail mba se vogliamo è davvero un network internazionale e mette a disposizione di tutti coloro che hanno la necessità anche per la semplice fotocopia ma soprattutto per la spedizione di pacchi di letteri di raccomandate eccetera eccetera naturalmente non c'è bisogno che ve lo spieghi io e adesso parliamo del resto avete visto e state vedendo anche le immagini che noi vi abbiamo proposto della sede proprio qui in via Roma ad Esenzano di Albino parliamo di questa sesta edizione della pedal di owl sprint e poi parleremo naturalmente anche dell'altra manifestazione che è la baby pedal di owl che ha avuto davvero un bel successo e presentandovi gli ospiti che sono davvero numerosi inizierei e qui chiamiamo la nostra emi a un primo piano concedetecelo anche perché il significato è la presenza di maurizio albergoni è davvero preziosa maurizio albergoni è inutile che ve lo spieghi lo conoscono ormai tutti il presidente dell'associazione onlus federica albergoni che e poi ci spiegherà i motivi della presenza poi qui vicino a me abbiamo uno dei giovani il segretario se vogliamo emanuele caprini della organizzazione dell'organizzazione appunto della pedal di owl e poi abbiamo eccolo lì il responsabile principale l'organizzatore l'anima forse di questa manifestazione giampietro norris che ci racconterà per filo e per segno come si è arrivati a questa sesta edizione una edizione davvero importante anche perché da ormai cinque anni anzi oserei dire proprio sei anni è perfetto crescendo e questo è importante in mezzo eccolo lì il presidente dell'oratorio desenzano calcio signor marco donghi che saluto e ho il piacere di conoscere questa sera il veterano emanuele martinelli e magari mi guarda un po di sbiego perché l'ho chiamato veterano però pensate un po che emanuele era presente alla prima manifestazione una prima eccezionale nel 1983 era un ragazzino però lui c'era ed è il veterano in assoluto della manifestazione poi di là invece abbiamo un'altra figura importante per quanto riguarda l'organizzazione manifestazione vale a dire Achille Carrara che è il responsabile per quanto riguarda i premi insomma è colui che fa un po di faccia tosta per andare a raccogliere i premi insomma ed è una figura altrettanto importante io direi a questo punto anche per raccontare un po la storia di questa pedal di owl sprint la baby pedal di owl ci affidiamo naturalmente a un po un po la disamina che ci fa gian pietro norris per raccontare questa sesta edizione credo non so se ho detto giusto prima che è increscendo la manifestazione questo vuol dire che avete lavorato bene sin dall'inizio questo vuol dire che anche per quanto riguarda il percorso è assolutamente novità ma novità apprezzata sì la manifestazione crescendo l'anno scorso abbiamo ottenuto il massimo come anche due anni fa 180 pettorali disponibili e diciamo li abbiamo occupati tutti e questo è un segno di grande soddisfazione e una manifestazione che non è non lascia diciamo spazio a tutti tesserati amatori casalinghi amici e tutti quelli che vogliono partecipare quindi c'è massima libertà nell'interpretare la prova ecco così la chiamerei non è proprio una corsa vera e propria diversa invece è la manifestazione baby che è aperta ai ragazzini dai 6 ai 9 anni è una gara molto è una gara secca diciamo mette a confronto i maschi con le femmine con una partenza in contemporanea da punti diversi con arrivo alla cappella degli alpini diciamo l'anno scorso è stata la prima esperienza di questo tipo ha avuto un buon successo e ha visto prevalere le femminucce sui maschietti quest'anno sicuramente ci sarà la rivincita da parte dei maschietti che noi chiamiamo diavoletti visto il nome della manifestazione per il diavolo certo a proposito di questo mi piacerebbe sapere come ti è venuta l'idea di creare una gara tu hai detto una manifestazione ma però è una gara vera e propria perché sappiamo che l'impegno c'è creare una gara in questo percorso che pur corto che sia è abbastanza impegnativo e selettivo per quanto riguarda la sprint diciamo abbiamo preso spunto dall'edizione storica che si faceva riferimento alla partecipazione di Emanuele che più che tra virgolette veterano lo chiamerei senatore ecco è giusto ma guardato male per quello prima penso di sì senatore una parola più diciamo ecco esatto lui ha partecipato all'edizione 83 poi dal 2011 in poi a tutte le manifestazioni e direi vorrei anche aggiungere con con ottimi risultati cronometrici visto che lui ci mette sempre più del 100 per cento il percorso diciamo della sprint che è chiamato percorso sprint che parte dalla cappella arriva ai piedi del diavol ha preso spunto dall'edizione dell'83 e poi diciamo l'abbiamo perfezionato rivedendo un attimino rivedendolo un attimino in chiave moderna però vorrei fare riferimento anche alle passioni del papà Marcello qui è dedicata la manifestazione proprio perché lui era abituale tutte le domeniche passare da quel sentiero per andare nella località dove lui era nato cioè sopra i piedi del diavol che è la località Merà poi amava molto la corso in montagna amava molto l'agonismo abbiamo messo insieme tutte queste cose diciamo che è nata questa questa manifestazione la baby invece diciamo che è più un modo per coinvolgere i ragazzini e le famiglie i genitori partecipano alla sprint i ragazzini partecipano alla baby e diciamo che si crea una festa e qui si vuole ricordare in particolare un'altra figura importante Amerigo che ha lasciato il segno indelebile soprattutto nei ragazzi proprio del paese di Comenduno e sì Amerigo ci ha lasciato qualche anno fa a meno di 40 anni per un male incurabile lui era nostro atleta negli anni 80 poi è stato sempre un valido collaboratore per il per lo sport per la comunità di Comenduno e non solo anche per gli eventi parrocchiali e oratoriali del paese c'è una novità poi naturalmente tornerò da te per i dettagli la partenza e così via c'è una novità e la dobbiamo dire naturalmente quest'anno il supporto logistico insomma per quanto riguarda la manifestazione viene affidato all'oratorio Desenzano Calcio ce ne parla il presidente Donghi di questa se vogliamo nuova coalizione fra Comenduno e Desenzano io vorrei ricordare sicuramente voi siete tutti giovani ma io ricordo benissimo che Comenduno e Desenzano 50 anni fa non andavano tanto d'accordo e invece adesso dobbiamo dire che insomma c'è questo nuovo rapporto di collaborazione che può estendersi anche per il futuro Donghi sì buonasera beh sicuramente sì nel senso che le comunità sono limitrofe e togliere un po' quelli che sono gli schemi del passato è sicuramente uno sguardo verso il futuro diciamo che quando Gian Pietro ed io ci siamo conosciuti anche con gli altri ragazzi della manifestazione il senso stesso della manifestazione ha incontrato anche quello che è il senso della nostra società che una società giovane e che in poco tempo è riuscita ad aggregare tante persone infatti io come dico sempre a Gian Pietro ci sono due aspetti che hanno legato questa unione la manifestazione pedel diaul in realtà io l'ho intesa come un approccio sportivo che vede due obiettivi uno un senso nobile e uno un senso sociale nobile per le ragioni che ha prima ben citato Gian Pietro che è la memoria del papà e la memoria di Amerigo che io purtroppo non ho conosciuto ma mi sarebbe piaciuto conoscere proprio perché ha dato tanto alla comunità e allo sport cosa abbiamo di nobile noi sicuramente non abbiamo questa nobiltà nel ricordo delle persone ma se devo raffrontare l'aspetto nobile del nostro lavoro è che tanti volontari sottraggono del tempo le loro famiglie per dedicarlo alle persone che sono i ragazzi e i bambini che occorrono nella nostra società l'altra parte è la parte sociale perché un po' nella nostra filosofia e approccia appunto l'altro aspetto che è quello di una gara non competitiva ma è l'aggregazione delle persone quindi anche noi come società sportiva abbiamo più che il concetto dell'agonismo e della vittoria quello della società delle persone quindi aggregare più bambini possibili e coinvolgere le famiglie affinché tutti possano concorrere per il bene dello sport questo è il senso dell'unione. Allora ci sembra ci sembra giusto visto che siamo in tema e sicuramente anche Maurizio che con la polisportiva desenzanese nel suo insieme giusto ha avuto tanto a che fare per il passato ci sembra giusto conoscere un po' di più qual è il movimento dell'oratorio desenzano calcio? Il movimento desenzano calcio che fonde i principi su quello che ho detto è oggi una realtà che è riuscita ad aggregare in meno di tre anni circa 100 atleti noi quando abbiamo iniziato e abbiamo ereditato la società che c'era prima era una società con meno di una ventina di atleti e in questo poco tempo siamo riusciti proprio per i fondamenti che ho detto prima che sono l'ispirazione di tutto quello che è il movimento oggi ad avere una piccola scuola calcio le categorie pulcini esordienti giovanissimi e allievi a 11 per la prima volta nella storia e quindi è sicuramente una piccola realtà che non vede il limite della aggregazione con altre realtà. Mi piacerebbe anche collaborare con aprire ulteriormente a quello che è l'oratorio Comenduno alla Marinelli che tra l'altro io ringrazio perché da neofita non posso che ringraziare perché come ho detto prima solo chi ama lo sport lo può sostenere quindi di conseguenza io non posso che ringraziare la Marinelli per aver sostenuto Gian Pietro e tutti i ragazzi del comitato fino ad oggi oggi parte una nuova avventura e speriamo che possa continuare. E bravo Donghi che naturalmente da buon presidente cerca di coltivare anche quelli che sono i rapporti che non si sa mai possono anche instaurarsi anche per il futuro. Emanuele se mi permetti vado un attimo con Maurizio anche perché stiamo spiegando quelli che sono come posso dire i significati quella che è la sensibilità della gente quella che da sempre e soprattutto da quando lui ha creato questa associazione Federica Albergoni Onlus la gente ha saputo rispondere. Prima di così proporre questa intervista ho parlato con con Maurizio Albergoni chiedendo i numeri perché sono quelli che poi alla fine contano perché uno va in giro certamente anche per la soddisfazione di avere adesioni importanti e mi ha detto mi mancano davvero pochi numeri doppia cifra ma davvero pochi 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 per arrivare alle mille adesioni. Sei soddisfatto di questo tuo lavoro e sicuramente Federica da lassù saprà ringraziarti anche per questa sensibilità che cerchi di proporre anche agli altri. Sì diciamo così sono tutte occasioni che noi prendiamo grazie all'invito che gli organizzatori ci hanno dato per essere sempre nelle piazze e sul percorso. Essendo anche uno sportivo amante della corsa no no ho solo detto sì subito senza tentennamenti. Noi cerchiamo in tutto e per tutto soprattutto anche nel lato sportivo di lanciare questi messaggi di solidarietà di far capire l'importanza della donazione nel nostro caso del midollo osso che è una cosa che la gente è difficile far capire. Comunque stiamo lavorando bene sia a livello locale ma anche in provincia. Come dicevi tu ci mancano 14 persone per arrivare a mille. Quest'anno speriamo di arrivarci però l'importanza è che 10 persone hanno donato il midollo osso della nostra associazione. 15 persone hanno salvato la vita ha detto tante persone quindi questi sono gli obiettivi. Prendiamo appunto l'occasione di tutte queste forme sportive per cercare di lanciare questi messaggi e sicuramente noi saremo sempre a disposizione di chi naturalmente ci invita. Io direi e io direi naturalmente anche da voi da casa avrete appensato soprattutto i numeri ma soprattutto il sentire che ci sono 10-12 persone che hanno contribuito a salvare altre persone con questa donazione. Questo grazie anche al tuo lavoro, questo grazie anche al tuo muoversi un po' in tutte le istituzioni. Come a dire insomma ci vuole ci vuole davvero davvero poco per far sì che la gente apprezzi effettivamente il senso come ho detto prima della solidarietà. Sì diciamo così questa è una cosa importante già si parla tanto di solidarietà ed è giusto che ci sia questo questo motivo però ci sono tanti motivi di solidarietà soprattutto io penso adesso partiamo nell'abito sportivo che sia atleta che atleta insomma si stringano la mano sia prima ma anche durante e anche dopo che non ci siano degli scherzi eccetera eccetera. Questo vuol dire solidarietà vuol dire far capire alla gente l'importanza di avere cervello, cuore e tante gambe in questo caso. Questa è una cosa molto importante. Allora vorrei chiedere a Maurizio sarai anche tu della gara ma visto che anche lui come me un po' di pancetta ce l'ha e qualche anno anche lui ce l'ha allora credo che sarà impegnato a lanciare questi messaggi e speriamo che anche domenica domenica la gente possa raccogliere quantomeno il senso di quanto stai facendo giusto? Sì, il cervello c'è per fare la gara e le gambe che non ricorrono dietro il cervello no? Quindi poi avendo anche una venerabile età non si può pretendere lasciamo ai giovani lo scopo di arrivare primi noi cerchiamo solo di arrivare ultimi però di arrivare grazie Maurizio allora io vorrei soltanto mentre mi sposto vorrei soltanto ricordare che nel 1983 Emanuele Martinelli ha ottenuto il tempo di 4.49 siccome ha partecipato a quella questa era l'edizione zero alla prima seconda terza quarta e quinta edizione e siccome qui nell'albo d'oro non figura il tempo di queste ultime cinque edizioni sei riuscito a battere quel 4.49 o? Sì sì l'ho sempre battuto finora sì l'ultimo anno ci sono andato un po' più vicino 4.39 nel senso che i primi anni ero riuscito a fare anche 4.14 adesso pian pianino pian pianino mi sto avvicinando al vecchio tempo che feci a 13 anni insomma a 13 anni adesso ne ha qualche uno in più non diciamo l'età perché vabbè si potrebbe dire non è una donna perciò sicuramente non si offende però vuol dire al di là di questo al di là del tempo che l'età va bene per carità va su per tutti ahimè vuol dire al di là del tempo al di là di tutto vuol dire che sei sempre rimasto nell'ambito sportivo questo sport che ti ti prende fino diciamo fino in fondo quasi eh sì no lo sport a me è sempre piaciuto però ecco volevo dire che è una gara anche molto 900 metri sembrano pochi ma in realtà ci sono degli aspetti del percorso che rendono dal punto di vista tecnico il percorso interessantissimo per riuscire a vincere per riuscire a fare il miglior tempo bisogna comunque unire non solo le gambe ma anche la testa infatti all'inizio c'è un tratto molto pianeggiante sull'erba e poi salendo a un certo punto il sentiero diventa proprio sentiero e ci sono dei pezzi dei tratti da saltare che sono veramente è dura è una gara molto dura allora Emanuele oltretutto è anche uno degli sponsor della manifestazione lui con la sua attività è vicino un po' all'ambiente all'ambiente sportivo lui cerca di dare fin dove può fin dove riesce naturalmente il suo contributo anche per questo lo dobbiamo dire si riescono ad organizzare certe manifestazioni perché c'è chi oltre che la passione ci mette anche un po' del proprio no un po' di cuore nel fare queste piccole grandi cose sicuramente il far vedere soprattutto ai giovani far conoscere anche questi aspetti anche questi percorsi perché sono percorsi naturalistici è bellissimo tra l'altro quel quel sentiero e anche la gara dei bambini fatta in quel modo come l'avete ideata l'abbiamo ideata è veramente una cosa bella perché l'aspetto proprio didattico e pedagogico della cosa è importante per far conoscere perché è come se fosse un valore da trasmettere ai nostri ragazzi che dopo se crescendo mantengono la passione assaporano quello che assaporiamo noi che siamo un po' più grandi certamente riusciremo a trasmettere e far capire a questi ragazzi che comunque lo sport è sempre ragione di vita ragione anche di aspetti positivi per quanto riguarda naturalmente la natura che ci circonda meno male che c'è ancora ma soprattutto la voglia di fare sport per tenerli lontani da quelli che possono essere chiamiamoli circoli viziosi adesso questa sesta edizione perché voi sapete qui si parla di 180 ma poi una battuta al volo con Giampiero e se ne arrivassero 200? no il numero massimo è 180 ma questo 180 tassativo voglio dire perché c'è un problema anche logistico? sì perché la partenza del primo concorrente è fissata per le 8.30 l'ultima alle 11.31 di conseguenza in quell'arco di tempo ci stanno solo 180 concorrenti insomma sono 3 ore 6 per 3,18 e la matematica non è un'opinione eccolo qua spiegato il motivo e i 180 concorrenti che partono a cronometro naturalmente ogni quanto tempo ogni un minuto cercheranno poi di battersi sul percorso che come ho detto è breve per arrivare al traguardo per salire sul podio e poi sul podio e qui naturalmente lo chiediamo a colui che più degli altri si è dato da fare per raccogliere un po' i premi a Chile Carrara chiediamo quali saranno questi premi perché ci sembra giusto perché adesso sembra una banalità però ci sono anche tanti tanti atleti che magari vengono perché ci sono anche dei bei premi in dotazione giusto? sì esatto allora innanzitutto voglio ringraziare i nostri sponsor che tutti gli anni danno la possibilità a noi di recuperare delle risorse per poter poi dare questi premi di partecipazione e non solo premi di partecipazione a tutti i nostri atleti concorrenti tutti gli anni noi cerchiamo di dare dei premi differenziati tra la baby gli under 18 hanno un altro tipo di premio poi abbiamo le donne con un tipo di premio e alla fine gli uomini con un'ulteriore qualità di premio questo ci impegna parecchio perché riuscire tutti gli anni a dare premi diversi a tutte le persone è abbastanza complicata però questi premi di partecipazione tutti gli anni sono molto ben graditi da tutti i nostri concorrenti inizierei dai baby qua li dividiamo tra i maschietti e le femminucce che in realtà poi sono fanciulle diavoletti per le fanciulle il primo di partecipazione sarà una paletta per slittare sulla neve e speriamo che quest'anno venga la neve perché anche per altri motivi esatto esatto poi mentre per i diavoletti rimaniamo comunque in tema della montagna gli daremo uno zainetto per andare in montagna per le sue loro escursioni a tutti i partecipanti a tutti i partecipanti questi sono premi di partecipazione poi all'arrivo abbiamo già collaudato l'anno scorso questa novità ci saranno 5 buste appese i primi 5 che arrivano prendono la busta che conterranno chi non schipasse per l'izzola un buon weekend per due persone abbigliamento e altre cose questo per la baby mentre invece poi noi abbiamo come sempre premi di partecipazione per l'under 18 femminile e maschile questo è premi sono sono uguali i premi e abbiamo cercato di rimanere sempre in tema come un della corsa quindi noi daremo un kit per la corsa gli daremo una sacca poi gli daremo una bandana che si farà da scaldacollo da cuffia da berretta sono quelle nuove che si possono utilizzare in molte maniere una fascia da braccio per mettere il cellulare perché ormai molta gente comunque corre col cellulare e quindi il cellulare lo terrà dentro e poi abbiamo pensato di regalare anche uno scaldamani uno scaldamani a forma di bullettina molto simpatico riutilizzabile lo si fa scaldare poi quando serve si piega e fa la scaldamani quindi una cosa molto molto simpatica anche utile diciamo soprattutto per la stagione che verrà poi invece per le donne le donne noi normalmente abbiamo sempre fatto qualcosa di alimentare qualcosa di pronto così quelle donne che corrono arrivano a casa e hanno già il pranzo un po' per tutta la famiglia e il marito non si lamenta? non dovrebbe lamentarsi non dovrebbe lamentarsi quest'anno abbiamo fatto la confezione di una teglia per quattro porzioni di un rotolo pasta all'uovo con prosciutto cotto bottiglia di vino così il marito non dovrebbe a questo punto lamentarsi e poi una piccola sorpresa che quello vedrà nel momento dell'iscrizione e dell'arrivo magari una collana di diamanti non si sa mi sembra un po' esagerato però non si sa mai gli uomini invece una borsa alimentare sarà una borsa con 5 prodotti alimentari paste fresche o meno e questa sarà la borsa maschile questo sempre per tutti? per tutti i partecipanti questo è il primo di partecipazione insomma c'è sempre parecchia roba poi invece c'è il vincitore noi premiamo anche il vincitore il miglior vincitore ci saranno sia maschile e femminile verrà data una medaglia d'oro ricordando Marcello perché comunque la medaglia d'oro è anche un ricordo che uno tiene volentieri di aver fatto una vittoria ma si viene anche a ricordare questa figura molto importante per questa gara poi un buono spesa 50 euro per l'assoluto femminile e un buono è da 100 euro quindi sono due buoni per un totale di 150 euro più la medaglia d'oro quindi questo per il miglior tempo femminile per il maschile c'è sempre la medaglia d'oro due bottiglie di vino e anche qua un buono spesa da 50 e un buono spesa da 100 euro quindi anche per il maschile sono due buoni per un totale di 150 euro ma non è finita perché a chi stabilirà il record questi sono i vincitori chi stabilirà il record avrà un buono spesa da 250 euro sia maschile che femminile quindi è molto ricca la gara e sono accumulabili quindi chi batterà il record sicuramente sarà anche il vincitore e si prenderà sia 250 euro per il record più 150 perché ha vinto la gara quindi sono parecchi soldi insomma è un bel approccio anche per chi farà la gara veramente sul serio a questo punto mi viene una domanda perché sai quando siamo abituati noi che seguiamo le gare siamo abituati che quando ci sono in mezzo un po' di soldini arrivano anche certi atleti che sono competitivi al massimo sto parlando magari dei marocchini sto parlando di questa gente del nord dell'Africa che magari lasciano poche speranze agli altri è previsto anche questo? ma ad oggi no non è previsto questo nelle iscrizioni non ci sono non abbiamo mai avuto marocchini esatto marocchini così in nord Africa non li abbiamo mai avuti però abbiamo avuto comunque gente molto forte l'anno scorso c'era Gualdi che veniva da New York alla maratona dopo 15 giorni della maratona ha fatto la nostra gara quindi per noi è un motivo di orgoglio perché anche Gualdi un maratoneta a livello mondiale è stato capace di venire a nostra gara quindi per noi è stato molto molto bello questa cosa i primi però non sono finiti perché noi abbiamo anche dei premi a sorteggio finita la gara ogni concorrente ha un pettorale con un numero noi estraeremo questi numeri sono una decina di premi 13 premi sono e verranno sorteggiati al momento di tutti i partecipanti ci sono per esempio uno ski pass sempre per l'Izzola un weekend di 4 persone un altro stagionale abbonamenti e altre robe quindi ci sono parecchie parecchi premi è veramente molto molto premiata come gara allora devo dire devo dire Carrara che lo sforzo che hai fatto naturalmente tu e altri collaboratori è stato davvero enorme forse anche per questo che diciamo così l'iscrizione è abbastanza abbastanza ambita ci auguriamo naturalmente che chi vince possa contentarsi della vittoria magari battere il record d'intascarsi 250 euro e non sarebbe male e poi che so io lo ski pass per l'Izzola magari lasciarlo a qualcun altro così i primi vengono divisi però insomma bisogna vedere la fortuna da che parte andrà questo dobbiamo dire che lo sforzo e questo lo sottolineiamo che lo sforzo dell'organizzazione è stato davvero prezioso naturalmente come in tutte le organizzazioni come in tutte le società dobbiamo dire che c'è anche un segretario che mi ha detto fammi parlare poco ma la domanda mi sembra giusto Emanuele Caprini anche perché so che anche tu nell'ambito dell'organizzazione c'hai il tuo bel da fare sì certamente anche dal punto di vista burocratico diciamo c'è il suo da farsi sia preparazione pettorale sia la mattina stessa predisporre tutto il banchetto la registrazione di tutti gli atleti è un bel da farsi bisogna essere organizzati e pronti anche il giorno della gara diciamo che anche quest'anno ho voluto mettermi in gioco dopo la bella esperienza dell'anno scorso per contribuire alla buona riuscita della manifestazione con con tutto il comitato bene so che vuoi dire ancora qualcosa va bene così va bene così sei di poche parole e rispettiamo naturalmente il tuo desiderio io vorrei ancora con Gian Pietro Norris andare un pochettino a toccare anche se l'hai già fatto in maniera diciamo piuttosto allargata l'hai già fatto però io vorrei che tu ringraziassi veramente gli sponsor perché se ci sono questi premi vuol dire che gli amici come io amo definirli sono veramente tanti e sono importanti ma l'hanno già detto i miei collaboratori sì se non ci fossero gli sponsor non ci sarebbe la manifestazione fra tutti anche grazie non l'abbiamo fatto ma la faccio adesso pubblicamente alla famiglia di Calvi Valerio e Francesca che ci hanno ospitato qui non a caso per questa trasmissione li vorrei ringraziare anche per la fiducia dimostrata non solo adesso ma anche nel corso degli anni precedenti e c'è sfuggito forse che non abbiamo dato la data della manifestazione che comunque è il 29 ottobre come sempre per tradizione la riproponiamo in caso di maltempo la domenica successiva che quest'anno sarà il 5 novembre vogliamo abbiamo allora le iscrizioni sia per la baby che è una novità assoluta quest'anno ma che per la sprint accettiamo le iscrizioni ormai al 95% si accettano vengono fatte tutte online abbiamo ancora qualche pettorale disponibile e quindi invitiamo tutti a riempire l'ordine di partenza non solo la gente di Albino ma anche al di fuori tutti gli appassionati allora saranno e arriveranno un po' da tutta la provincia naturalmente anche se poi il numero maggiore potrebbe essere quello dei dintorni del paese però di atleti importanti ce ne sono prima Carrara ha ricordato Giovanni Gualdi Giovanni Gualdi che ha vinto proprio domenica scorsa la Cruzone al Zanoran è informissima sta preparando la maratona di Siviglia e chissà mai che proprio questa manifestazione la usi anche per allenamento visto che è abbastanza tosta non lo so ci auguriamo che partecipi Gualdi come tanti altri atleti forti e meno forti hanno già dato adesione i due record della manifestazione sia Claudio Locatelli che l'anno scorso ha siglato il record femminile e il vincitore per tre volte consecutive Luca Biava detentore del record ha già assicurato la sua presenza quindi però ecco l'importante è che riusciamo a raggiungere il nostro numero massimo io credo proprio di sì ricordando che il record è di 3.30 e 30 se non vado errato 3 minuti e 30 insomma sono 900 metri non sono molti però come abbiamo detto dopo i primi forse 150-200 metri c'è da dire che la strada comincia veramente a salire allora eccola qua non ha voluto ma la intervistiamola soprattutto ringraziamo anche perché io sono stato molto vago nel parlare visto che ci ospiti nel tuo studio qui nel tuo negozio scusami nel parlare di questo come si dice MBA o mailbox eccetera non sono sicuro di pronunciarlo bene perché faccio fatica a parlare l'italiano figuratevi l'inglese però devo dire effettivamente che da quando hai preso in mano assieme a tua cognata giusto? sì dieci anni fa dieci anni fa questo negozio l'hai rilanciato stai lavorando bene sei soddisfatta? sì è impegnativo ci sono tante cose da fare ma ecco in particolare qual è il vostro il vostro indirizzo l'ho spiegato prima non sono sicuro di averlo fatto bene ma principalmente spedizioni come secondo profit la grafica anche la grafica grafica e stampa dal biglietto da visita allo striscione dalla creazione del logo semplice stampa per i privati pertanto insomma si va ad obiettivi un po' particolari anche innovativi se vogliamo sì sì soprattutto vari perché appunto ogni anno dalle spedizioni alla grafica e poi abbiamo due negozi ecco vorrei che tu ci parlassi anche del negozio di Ponte San Pietro giusto? sì sì Ponte San Pietro a differenza di quello di Albino è molto più lanciato verso le spedizioni mentre Albino è più verso la grafica il tuo prossimo impegno sarà quello di lanciare anche Albino esatto ti ringrazio ringrazio Francesca giusto? Francesca Calvi che naturalmente ci ha ospitato qui in questo studio se vogliamo improvvisato ma è davvero importante volevi aggiungere qualcosa Don Ghi? ma sì guarda allora io volevo confermare che il percorso è veramente bello l'ho fatto nel momento in cui ho conosciuto Gian Pietro e tutta la cricca dell'organizzazione io non sono nativo di qui quindi mi viene anche facile non avere diatribe di nessun tipo sono dinese o avevo le diatribe con Alzano però qui è tutta un'altra storia confermo che il percorso è veramente bello e se posso rincuorare Emanuele io l'ho fatto col cane ci ho impiegato 22 minuti quindi hai tutto il mio appoggio e il mio augurio per fare ancora meglio e niente voglio ringraziare tutti e sono certo che la manifestazione sarà uno spettacolo sono sicuro di sì sono sicuro di sì io direi vado ancora un attimo con Maurizio Albergoni anche perché leggendo e soprattutto spiegando bene quello che sarà il tuo impegno domenica 29 vedo che ci sarà un infopoint soprattutto come abbiamo detto prima per lanciare questi messaggi importanti un impegno che ormai tu sei abituato a sostenere come ho detto in tutta la provincia non solo sì ma di fatto noi saremo sempre presenti in tantissime manifestazioni questa è la più importante anche perché essendo di casa nostra saremo con la nostra info poi avremo dei gonfiabili diciamo così per far capire anche fare un po' di scenario di quello che è la manifestazione e chi vorrà prendere informazioni siamo presenti sarò presente io fisicamente non correrò assolutamente anche se mi piacerebbe correre purtroppo l'età è quella che è però quantomeno cercherò di sopportare e supportare le persone naturalmente che gareggiano soprattutto i ragazzi i bambini bravissimo Maurizio non mi sei piaciuto quando hai parlato dell'età perché visto che siamo coetanei noi ci sentiamo ancora giovani diciamo così allora ricordando ancora domenica 29 ottobre partenza 8 e 30 ormai le iscrizioni sono pochi posti liberi i 180 mi pare di aver capito giusto Gian Pietro pertanto c'è tempo ancora sicuramente per iscriversi però ricordando anche lo scopo e soprattutto la doppia sensibilità quella di respirare perché poi magari per chi io visto che sono del paese questa zona la conosco benissimo c'è un panorama stupendo si vede diciamo non tutta ma parte della media valle seriana se la può godere si può godere veramente lì dall'alto e soprattutto si può respirare diciamolo francamente ancora quell'aria buona che per fortuna abbiamo ancora qui dalle nostre parti ricordando ancora 29 ottobre noi ci saremo saremo lì a riprendere la manifestazione cureremo in particolare i dettagli come del resto abbiamo fatto e vi abbiamo proposto anche in sovraimpressione durante queste interviste naturalmente immagini di repertorio relative all'edizione 2016 della manifestazione non mi resta che ringraziarvi tutti c'è qualcosa da aggiungere prego Gianpietro a nome del commentato organizzatore vorrei ringraziare in primis l'oratorio Desenzano Calcio e in particolare il presidente per aver accolto e supportato l'invito alla manifestazione l'amico Albergoni noi lo vorremmo vedere veramente in corsa però mi pare di aver capito che non sarà così grazie per la per la sua adesione immediata non forse ci ha pensato due secondi c'è tu sia ad aderire alla manifestazione poi vorremmo ringraziare anche il comune di Albino purtroppo non ha potuto partecipare il sindaco ma ha assicurato che ci saranno le premiazioni grazie anche a loro per il contributo e il supporto che ci hanno dato in queste settimane benissimo concludiamo qui non prima di aver ancora una volta ripeto e soprattutto ribadire l'importanza della manifestazione perché è veramente una di quelle manifestazioni belle dove si respira anche un'aria sana quella competitività che ci vuole per far crescere lo sport e sappiamo che quando si corre a piedi lo sport è sempre comunque bellissimo al di là del risultato dunque l'appuntamento è per domenica 29 a partire alle ore 8 di mattino poi il primo partirà alle 8 e mezza alle 11 e 31 finirà la gara o perlomeno partirà l'ultimo concorrente prima di mezzogiorno le premiazioni di 12 e mezza tutto finito mi pare entra mezzo a questo ci sarà la corsa spettacolare dei piccolini speriamo più numerosi possibili e c'è anche la degustazione adesso mi sfuggiva però avremo oltre a un ampio ristoro sia in zona arrivo ma soprattutto in zona di partenza nella zona della capella degli alpini avremo il solito ristoro però faremo anche questo show cooking degustazione di scarpinoce de par ecco benissimo un poco all'opera per degustare questi prodotti e non ce ne vogliono quelli di par ma li facciamo anche noi pensate poi che tutti vanno via hanno già pranzato eccetera perciò sicuramente le mogli che sono a casa si arrabbieranno un po' perché non potranno preparare manicaretti perché arriveranno a casa già pieni però magari non sarà sufficiente quello che daremo per soddisfare il pranzo però sicuramente un bel aperitivo ci sta per qualsiasi informazione per qualsiasi curiosità www.oratorio.desenzanocalcio.com li trovate tutto ritrovate ogni dettaglio per questa giornata che si preannuncia davvero interessantissima grazie ancora a tutti a Carrara naturalmente Martinelli Donghi a Gianpietro Norris a Caprini e a Maurizio Albergoni e naturalmente a Francesca Calvi e il papà Valerio che sono dietro le telecamere e grazie a voi che anche in questo diciamo così in questo servizio di presentazione avete avuto la bontà di seguirci ci saremo anche noi con le immagini di questa sesta edizione della Pedal Diablo Sprint della Baby Pedal Diablo grazie e risentirci alla prossima